allora vorrei sottolineare una cosa riguardo al prodotto alla costruzione geometrica per arrivare al prodotto di due segmenti dunque anche di due perché no di due vettori volevo sottolineare questo cioè nella costruzione che abbiamo fatto nel video precedente nei video precedenti ok abbiamo costruito questo triangolo ok questo triangolo e poi siamo andati a costruire quest'altro triangolo poi imponendo questo qua uno dunque io poi ho costruito questo questa riga per far vedere ulteriormente la spiegazione cioè in pratica questo triangolo qua questo questo qua triangolino rettangolo è simile a questo a questo qua che è sempre rettangolo ok se io impongo che in questo cateto è uno e impongo che questo è cinque essendo simili allora vorrà dire che questo qua è un quinto di questo come avevamo dimostrato no se di fatti voi andate qua 11,2 circa perché questo è dopo 2,23 così via e cinque volte 2,24 ok naturalmente questo non è proprio 2,24 giusto ma così anche questo cateto è un quinto è un quinto di questo dunque siccome sono simili allora questo punto se questo è uno questo è cinque ok vediamo se e questo è cinque vuol dire che se questo è due essendo simili questo sarà dieci cioè cinque volte tanto e idem questo 2,24 sarà cioè l'11,18 sarà cinque volte questo quali dunque l'ipotenusa di questo è un quinto dall'ipotenusa di questo essendo simili dunque io posso giocare nel senso che se mi serve il prodotto di due lati posso andare o a prendere l'ipotenusa o a prendere l'altro cateto naturalmente questo è naturalmente questo l'uno se l'avessi messo qua ok potevo fare anche di usare un cateto o l'altro non posso usare l'ipotenusa perché se mettessi qua uno dunque dopo non posso giocare sui valori di questi due cateti che devono essere sempre minori e dunque è meglio sempre andare a mettere l'uno su un cateto ok e poi andare a prendere il prodotto dell'altro decido io se andare a prendere un cateto ok o andare a prendere l'ipotenusa o prendere questo questo prendere l'ipotenusa questa qua per il raddoppio ok naturalmente se c'è per il raddoppio per la moltiplicazione naturalmente se vado a prendere il cateto devo andare a mettere l'altro lato sul numero l'altro numero che mi interessa sul cateto se invece vado a prendere l'ipotenusa l'altro il b devo metterlo sul sull'ipotenusa ecco perché se io voglio il 10 qua ok il 2 moltiplicato il 5 moltiplicato per il 2 allora a questo punto questa la faccio tasto destro la faccio diventare non guidata vediamo se va non guidata certo che è lentissimo a questo punto posso andare a mettere due qua se ce la fa che aspetta moltiplici metto due ok faccio andare il mio semaforino e quello lì diventa 10 attualmente questo cambia perché in pratica è 1,73 per 5 che viene 8,6 andiamo provare circa è 1.73 perché approssimato per 5 è uguale a 8,65 ma noi comunque si vedeva qua che non è 1,73 ma come si vede qua vediamo è 1,73 20,50,81 vediamo 20,50,81 vediamo 20,50,81 1,73 20,50,81 per 5 e siamo sull'8,66,025 andiamo a vedere ok mettiamo 8,66,025 ecco è 5 volte dunque o andiamo a prendere l'ipotenusa o il cateto a seconda di dove mettiamo il numero B che ci interessa per moltiplicarlo al 5 o a qualsiasi numero che sarà il nostro A l'importante è che l'A sia all'iniziale quello che corrisponde all'1 sia un cateto ok ci vediamo la prossima a vederci